Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family, oggi non ho iniziato il vlog dal lettone, mi sono già alzata, stranamente stamattina ho fame, quindi faremo colazione, perché di solito devo sforzarmi per fare colazione, stamattina ho fame, perché ieri mi sono trattenuta dal sgranocchiare schifezze prima di andare a dormire, quindi dovrei farlo più spesso forse. Sì Gatto Denver ti sento, dove sei? Ti sento ma non ti vedo, qui c'è Gattastellina, ciao, buongiorno Gattastellina, sei bellissima, sei bellissima, la mia stellina, bisognerà spazzolare di nuovo Gattastellina e anche Gatto Denver mi sa, dove sei tu? Dove sei tu? Ciao amore, ciao amore mio, il mio gattino è tutto bianco, sei tutto bianco? Ah, è un po' corancione? Sei anche un po' corancione? Vuoi uscire? Sì lo so, lo so, la prima cosa che i gatti vogliono fare la mattina è uscire e andare a fare il giretto in giardino, ma oggi c'è parecchio vento Sì Gatto Denver, c'è parecchio vento Il cielo comunque si vede l'azzurro, quindi diciamo che non ci si può lamentare, però appunto C'è un bel po' di vento, ma li faremo uscire comunque questi gattoni Sì sì Intanto vediamo cosa possiamo fare per colazione Allora, frutta o banana, more, potrei fare un frullato con fragole more o anche una bowl O anche tre kiwi volendo, ma penso che basteranno le banane, anzi la banana e le more Ok, ho messo lo yogurt nella mia bacinella e poi ci ho aggiunto la banana, un po' caso, e le more e adesso non so se metterci un po' di riso soffiato e il muesli Oppure ho preso anche questi pezzettini di cocco e questa frutta secca con noci e anche le bricioline di cacao Direi intanto cocco, che ho già sgranocchiato così a caso Voilà Ok, alla fine ho aggiunto anche il muesli, quindi la nostra bowl è pronta Oggi vado a pranzare in sala da pranzo, non esco perché fa troppo freddo, c'è troppo vento Ok, vi sto posizionando veramente in un modo improbabile, ma penso di aver trovato una sistemazione per la videocamera che non è male Ma ve la devo assolutamente far vedere, perché io veramente trovo i modi più improbabili Ok, vi sto posizionando sopra due candele più un altro portacandele, però sembra abbastanza stabile In ogni caso voi non muovetevi troppo, cercate di stare fermi Quindi, buon appetito ragazzi, è talmente bella riuscita questa bowl, che quasi mi dispiace mangiarla, ma neanche tantissimo perché ho fame Comunque, allora, successo stamattina, penso si veda, scusate, ho tipo un segnetto rosso qui Proprio vicino all'occhio, perché sono entrata in ripostiglio E c'è in alto, in alto, un pacco di cartone Che si è tipo aperto da un lato, e quindi c'era questo pezzo di cartone Io non mi sono accorta, sono entrata e appunto me lo son presa praticamente qui vicino all'occhio E non è niente di che, è tipo un graffietto, però si vede parecchio Perché tutta la zona qui accanto all'occhio, essendo molto sottile e delicata ovviamente Con la mia pelle che è super sensibile Se vedete appunto questo segnetto non vi preoccupate Ma sono io che la mattina veramente non so neanche dove sono E quindi, così, comunque Minimo bang colazione Ragazzi Oggi ci tenevo particolarmente a filmare questo vlog ragazzi Perché anche se comunque ne ho fatti Però ho come la sensazione che dopo la quarantena Tra il trasloco, l'arredamento della casa Poi non sono stata su youtube per due settimane E poi ho avuto un sacco di visite Quindi ho un po' la sensazione di non essere riuscita a fare un vlog O comunque dei video in cui stavo proprio solo a chiacchierare con voi E stavamo da soli Voi e io Io e voi Noi E quindi visto che oggi Allora, vabbè, come al solito lo sapete Ho sempre molto lavoro al computer E quindi tantissimo lavoro sarà qui alla schiavoniera Infatti ho già, come potete vedere, pronto qui Il mio computer La mia agenda Che sì, è cartacea Andrea mi prendeva in giro per questo Dice che sono vecchia Ma mi piace avere la mia agenda cartacea E scriverci su tutte le cosine E poi è rosa È tutta rosa Cellulare rosa E quindi mi piace E quindi sì Sono già in postazione per iniziare a lavorare Poi più tardi ho anche una call di lavoro Che durerà più o meno un'oretta Quindi non penso di uscire Anche perché Ragazzi c'è Demelza che mi sta scrivendo Nicole Non uscire, non uscire Perché i numeri qui sono in aumento Infatti avevo visto Però qui La situazione è un po' diversa rispetto all'Italia Penso che Cioè in realtà i numeri stanno salendo Molto velocemente qui Specialmente nella zona di Amsterdam E io ovviamente se esco Vado a fare shopping Qualsiasi cosa Se voglio firmare qualcosa Vado ad Amsterdam E quindi stanno fortemente sconsigliando Di andarci Se non per ovviamente Motivi importanti Almeno adesso Non so come sia La situazione in Italia Perché cambia tantissimo giorno per giorno Quindi io mi informo E poi passa qualche giorno Ed è completamente cambiato Quindi Sto vedendo almeno per il momento Di Almeno oggi Anche perché Dovendo viaggiare spesso Io il prossimo mese Dovrei già ritornare in Italia E non potendo Rimandare i viaggi Che sono viaggi di lavoro Almeno quando sono a casa Diciamo se non devo proprio uscire In questo momento Non esco Ditemi un po' come vi state comportando voi E come ci si sta comportando in Italia Come è la situazione in Italia Ma appunto Qui È così Anche se Tanti Criticano chi viaggia In questo periodo Ma Mangiando in modo Veramente Ma ho fame In realtà Io trovo che sia molto peggio Andare in giro Non stando attenti Alla distanza Dagli altri Non rispettando Le regole E sia molto peggio Questo Più che viaggiare Per motivi lavorativi In un ambiente In cui è tutto Molto controllato Perché gli aeroporti I velivo Cioè gli aerei Sono tutti Molto Molto controllati Sono tutti distanti Negli aeroporti C'è poca gente Quando si viaggia Tutti hanno la mascherina Quindi Paradossalmente È molto meglio Fare un viaggio in aereo Dove tutti hanno la mascherina Ed è tutto controllato Piuttosto che andare in centro Incontrare centinaia di persone Che non hanno la mascherina E ti si appiccicano E E qui Non è come in Italia Perché qui Nessuno Ha la mascherina Si porta solo Sui mezzi pubblici E E basta Non ci sono altre Altre regolamentazioni Comunque ragazzi Ultimamente mi dite Cambiamo il discorso Ultimamente mi dite Che sono gonfia Allora ogni volta Che mi dite che sono gonfia Sto guardando fuori Che c'è un vento pazzesco Ogni volta che mi dite Che sono gonfia Significa che ho messo su Due o tre chili ragazzi Quindi probabilmente Avrò messo su Due o tre chili Ho fatto filler in faccia O robe E questo è il discorso Perché quando mi sveglio Sono super 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 gonfia E ve lo dico Io sono sicura E per il fatto Che non ho le tende E il sole mi sveglia E quindi sono lì Che strizzo gli occhi Strizzo gli occhi Strizzo gli occhi E mi sveglio E sono Dall'altro oggi Mi hanno svegliato Qui c'è una cosa Proprio che Ormai ho capito Che si fa Ma si faceva anche Quando abitavo in Olanda Anche più vicino a Amsterdam Vengono I bambini del vicinato E ci vendono robe Mi fa morire L'ultima volta Mi hanno svegliato Anche oggi L'ultima volta sono venute Due bambine E vendevano braccialetti Quelli che si fanno Con i figli E quindi Le ho preso i braccialetti E erano tutte contente E oggi invece Avevano dei biscotti Cioè c'è sempre qualcosa Che dall'altro Li vendono carissimi Perché tipo Un braccialettino 5 euro Una roba del genere Ho detto cavolo Quando io ero piccola Facevo i braccialetti Li vendevo tipo A mille Due mila lire E adesso Io ero 5 euro Però sono troppo carine E tipo super timide E poi parlano tipo Poco inglese Quindi ci capiamo Io un po' di olandese Loro un po' di inglese Veramente Veramente Buffo il tutto Comunque Quasi finito La mia colazione Ragazzi Adesso Inizio A lavorare Al computer Sto bevendo acqua Perché purtroppo Non ho Non ho la spremuta d'arancia Qui le tempistiche Sono più lente Rispetto all'Italia Cioè in Italia Potevo ordinare la spesa Mi arrivava O il giorno stesso Se la facevo di mattina Mi arrivava tipo pomeriggio Oppure il giorno dopo Qui invece Ci vogliono due giorni Però Se non sbaglio È così Vista la situazione Covid Normalmente È più veloce Però Adesso è così Quindi Ho praticamente Il frigo vuoto Ah ragazzi Importantissimo Volevo parlarvi Della questione internet E mi stavo Completamente Dimenticando Allora Voi non avete idea Di cosa mi è successo E perché Non ho caricato Nei giorni scorsi Voi non avete idea Della connessione Che io avevo Cioè Neanche la DSL Più lento Che voi possiate Immaginare Era lento Come la connessione Che io avevo Nei giorni scorsi Praticamente Quando io sono venuta qui Mi sono fatta il contratto Con internet Più veloce Possibile Immaginabile Che c'era Ho controllato Tutti gli operatori Della mia zona Tutti E ho scelto L'operatore Che aveva Internet Cioè Aveva una connessione Internet Più veloce Ok Passa un mese E mi contatta L'agenzia immobiliare Mi dicono Ah abbiamo Stiamo facendo Insomma Tutto molto lento Perché covid Eccetera Non è semplice Bisogna prendere appuntamento Per tutto Quindi Non c'è problema Mi dicono Ah stiamo facendo La Come si dice La voltura Di acqua Luce Gas Stiamo facendo Il passaggio Di acqua Luce Gas Dalle persone Che abitavano Lì prima A te E vuoi Che facciamo Noi E gli dico Ok E Gli do i dati E tutto quanto E aspetto Che appunto Facciano Acqua Luce E gas Cosa che hanno fatto Dopo un sacco di tempo Ma vabbè Lasciamo perdere Cioè gli ho dato la mail Non so perché non mi arrivava Dicevano che passavano settimane Invece non mi è arrivato niente Poi finalmente mi è arrivato tutto Comunque Mi arriva il contratto di acqua E fino a qua Niente male Top Mi arriva il contratto di gas E anche qua Perfetto Mi arriva il contratto della luce E anche qua Yeah E poi Continuano ad arrivarmi mail E mi arriva una mail Dal mio operatore telefonico Che casualmente È lo stesso operatore telefonico Ma Mi arriva una mail Da un operatore telefonico Diciamola così Che mi notifica Che la connessione Il mio nuovo contratto Sarà attivo Entro pochi giorni E io vedo E la connessione Ragazzi Era Cioè adesso non mi ricordo Ma era tipo Perché io non mi intendo Di numeri Ok Quindi ho visto E ho detto Cavolo È molto più lenta Rispetto a quella che ho ora E ho detto Forse mi sbaglio Poi ho fatto vedere Aghile che era ancora qua E lui mi fa No cavolo Questa roba è lentissima Com'è possibile Cioè E io dico Mio dio E poi scopro Che l'agenzia Aveva Cioè mi aveva aperto Mi ha aperto anche Il contratto internet Senza che io glielo chiedessi Ma tra l'altro Ma tra l'altro Aspettate adesso vi spiego Ma tra l'altro L'agenzia Assurdo Perché voglio dire Sanno che lavoro su internet Quindi come possono pensare Che io sia qui da due mesi Senza una connessione internet Ma oltre a questo Ma se devi aprirmi Una connessione Cioè Un contratto internet A parte che Mi hanno chiesto Acqua luce gas E io gli ho detto Acqua luce gas Non internet Ma vabbè Però Cioè andrai a chiedermi Ma quale contratto vuoi Vuoi quello più veloce Vuoi quello più lento Cioè Andranno a chiedermelo Visto che ci lavoro con internet No E il bello è che mi hanno anche incluso L'abbonamento alla tv Che io non uso Quindi c'è proprio una roba Fatta a caso Così Poi ho chiamato L'operatore telefonico Non avete idea Delle ore Che io mi son fatta In attesa Perché quando mi facevano Parlare con qualcuno Poi mi passavano sempre Al servizio tecnico Quindi dovevo fare ogni volta Due attese Lunghissime Comunque Alla fine Ho parlato Allora no Prima La scorsa settimana Quando è successo il tutto Io ero disperata Ero fuori di me Ho detto Oddio come carico video Cioè Non riuscivo neanche a passarli All'editor Cioè ci mettevo tipo 3-4 ore Solo a passargli i file Una cosa che voi non potete Ma di solito ci metto 15 minuti Per farvi capire Ok Chiamo l'operatore Mi dicono Sì vediamo Hanno fatto questo Sono andati su internet E hanno Aperto un nuovo contratto Casualmente Con lo stesso operatore Che io già ho E quindi Cosa hanno fatto Mi hanno praticamente Cambiato il contratto Ce ne hanno aperto uno nuovo E dal mio Che era contratto internet Velocissimo Senza tv Mi hanno messo internet lentissimo Con tv Così E Ok E quindi Li dico ai tizi Cioè nel servizio clienti Tra l'altro Gentilissimi Dico così Ok ma cosa posso fare E La ragazza mi dice Guarda Dobbiamo far passare 3 giorni lavorativi Resterai proprio senza connessione Perché la togliamo completamente E poi riconnettiamo tutto Come se tu fossi appena entrata in casa Io disperata Dico Oddio Poi cercavo di caricare i video Non ci riuscivo Cercavo Ahia Cercavo con la connessione del cellulare Non ci riuscivo Lentissimo Voi non avete idea Cioè Quando vi dico che succedono delle cose Inimmaginabili Voi che Se ve lo dicessi Non ci credereste Ecco Questa è una di quelle Quindi quando non carico video Credetemi che ci Cioè Mi dispiace proprio Cioè Ci sto proprio male Ma Follia Ad un certo Voi dico Ma non si può fare in nessun modo Più veloce Cioè 3 giorni lavorativi Per me Sono Cioè Per tutti Sono tanti 3 giorni lavorativi Ed era giovedì Quindi si sta parlando di venerdì Poi tutto il weekend Poi lunedì E martedì Quindi c'è una settimana Praticamente per me E E Alla fine Mi ha detto Purtroppo non si può fare niente Mi ha detto Denuncia all'agenzia immobiliare Cioè andiamoci conto io Ma no Insomma Però mi hanno detto Sì 3 giorni lavorativi Quindi Io aspetto Da giovedì Aspetto venerdì Poi ovviamente Sabato e domenica Poi aspetto lunedì Poi aspetto martedì Ieri alla fine Ieri sera Praticamente pomeriggio Ho chiamato Dicendo ragazzi Sono passati i 3 giorni lavorativi Io stavo facendo gli speed test Al computer La mia connessione È ancora lentissima Cosa devo fare? E Ho trovato una gap Ovviamente La tizia non sapeva Non ci capiva un cavolo Mi diceva E la questione è molto complicata Ti passo il servizio tecnico Quindi ok Poi altra Mezz'ora di attesa Mi passo il servizio tecnico Finalmente Ho trovato un angelo Che mi fa No ma Veramente Perché ti hanno detto 3 giorni lavorativi Cioè Sono passati 5 giorni Potevano farlo in 3 ore Io Cioè Fermi tutti Fermi Cioè Potevano farlo in 3 ore E lui Sì Non so perché non l'abbiano già fatto Io Neanch'io Cioè Io veramente Poi gli faccio Meno male Che ti Cioè Sono stata fortunata A trovare te Veramente E lui mi fa Oh che piacere Non me lo dicono spesso Cioè È stata proprio una telefonata Grazie al cielo Effettivamente Dopo 3 ore La mia connessione Vi sto parlando di ieri Sera alle 10 Ok La mia connessione È tornata ad essere Quella che era Quindi Questo è quello Che mi è successo Io per 5 giorni Perché 3 giorni lavorativi Più 2 di weekend Ero Senza Internet E quando c'era Era una connessione Che io vi giuro Penso che neanche nel 97 Avevo una connessione Così lenta E tra l'altro Non so come mai Ma non riuscivo Né dalla mia scheda italiana Né dalla mia scheda olandese Perché ne ho provate Entrambe A caricare video Neanche con il cellulare Perché era lentissimo E dopo un po' Si disconnetteva Quindi non so perché Tra l'altro Mi stia succedendo Questo dal cellulare Ma questa è un'altra parentesi Perché i giga Pensavo di averli finiti Sulla scheda italiana Ma su quella olandese Che ho appena preso Sicuramente Poi ne ho tantissimi Sicuramente non li ho finiti Quindi Non lo so Però ragazzi Questo è quello che è successo Nei giorni scorsi Con la mia connessione Internet Sono veramente cose allucinanti Ed ero così arrabbiata Con l'agenzia immobiliare Perché per me È stato un grosso danno Adesso A parte gli scherzi Ovviamente Ma è anche un danno economico Per me Non poter lavorare Per tre o cinque giorni Quindi Mi sono anche arrabbiata Molto con loro E ho provato a chiamarli Non mi ha risposto nessuno Poi ho detto Boh lasciamo partire Chi se ne frega Tanto ormai ho risolto Però Finalmente ragazzi Finalmente La mia connessione È tornata a essere Quella che era Era veramente terribile Non riuscivo Cioè non riuscivo neanche Ad aggiornare Su Instagram Un incubo Un incubo Comunque ragazzi Adesso Ho finito La mia colazione Adesso mi metto A lavorare al computer Poi ci sistemiamo un po' Così Anche se non esco Almeno un po' di decenza Anzi Prima Prima Mi sembra anche giusto Facciamo uscire Un po' I gattoni Che vogliono andare In giardino E visto che comunque Il tempo appunto Non è male Approfitto Perché da domani Danno pioggia temporali E veramente L'ira di Dio Quindi Poi non li farò uscire Quindi oggi approfittiamo Ecco qua Ecco qua Vai gatto Denver Vai gatto Denver Sono volate Sono I Cosini Per il barbecue Ecco qua Gatto Denver Guardatelo come zampetta La prima cosa che fa È andare lì E guarda le paperelle Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Sei contento? Sei contento? Sei contento Amore mio? Il gatto Denver Grida di felicità Andiamo a vedere Se ci sono le paperelle Ciao Ciao Ma come ti spaventi Che è tutta l'estate Che ti do da mangiare Ah ecco infatti Ciao A me piacerebbe poterli lasciare liberi Qui in giardino Senza dover vegliare costantemente Ma da quando Denver è scappato E ho avuto difficoltà Cioè nel senso mi sono resa conto Che se lo chiamavo Non parlava E ho un po' paura A lasciarli da soli Come vi dicevo appunto Perché possono Ma amore mio Ma perché gridi? Sì sei tanto contento Sei tanto contento Bravo Bravo amore Bravo E appunto Loro saltano Cioè Audrey non l'ha ancora fatto Audrey non piace tanto saltare Non è tanto atletica Però Denver Salta in un nanosecondo E poi se ne va E se ne va lì Dai vicini Oppure dall'altra parte Sempre dai vicini E quindi non posso E poi può anche perdersi Questo è il problema Non è che se va dai vicini È un problema Il problema è che può perdersi Quindi devo trovare il modo Per chiudere questo pezzo Non so cosa fare O prendo una rete Però come faccio a farla Cioè sì posso Posso farla stare Una rete Però poi non esco Oppure Non lo so Magari consigliatemi Se avete qualche idea O se conoscete qualche prodotto Che possa andar bene Perché tutto il resto È completamente recintato Tutto 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 quanto Ma qui appunto Devo chiudere in qualche modo E vorrei trovare un modo Che fosse poi anche però Facilmente rimovibile Nel senso che poi Se devo uscire Vorrei qualcosa Che fosse anche semplice Da rimuovere Ragazzi Qualcuno di voi Sa che cosa sono questi cosi? È una specie di nido Di qualcosa Perché io onestamente Non saprei Ma qui Ce ne sono parecchi In questo angolo Strano Guardate cosa vuole Gata Stellina Gata 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 Ecco Lei aspetta E poi va a bere Ecco Gata Ecco Gata Scusa Ti ho bagnato con il vento Mamma mia Guarda Hanno paura del vento E si nascondono Io Ma io veramente Non ho parole Cioè Che fifoni Gata Vai a bere l'acqua Gata No scappa Non ci credo Gata Hai veramente paura del vento? Che tu sia un fifone Si sa già Si sa già Si sa già Niente abbiamo perso Gata Stellina Che ha paura del vento Ed è rientrata Gato 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 Ragazzi Che cosa ne pensate Del nuovo Tappeto Ve l'ho fatto vedere Su Instagram Ma voglio sapere Che cosa ne pensate Vedendolo meglio Anche in videocamera E questo è Due metri per tre L'altro era tipo Un metro e sessanta Per due Quindi è parecchio Più grande L'ho messo Sotto Diciamo fino a metà Del divano E fatemi sapere Che cosa ne pensate voi Naturalmente è ancora Un po' alzato Qui ai bordi Perché deve prendere La forma Ma ci mette Qualche giorno Nel frattempo Devo controllare Anche Gato Denver Fuori Che non Scappi Sempre qua Sempre qua Ma appunto Ditemi che cosa Ne pensate Vi faccio vedere Anche da questa parte Voilà Secondo me è molto 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 meglio Cioè quello era decisamente Troppo piccolo Però Non posso spostarlo Più a destra Perché se lo sposto Più a destra Poi E perché qui È a malapena Coperto dal divano Quindi Stessa cosa di là Potrei spostarlo Ancora un pochino Più sotto In caso Vedo che è un po' storto Ma lo Cioè è stato difficile Alzare il divano E farci stare sotto Il tappeto Quindi Potrei spostarlo Ancora un po' Ma ditemi Che cosa Ve ne pare Secondo me È molto Molto meglio Rispetto a prima Queste coperte Non sono bellissime Da vedere Ma sono qui Nel caso i gatti Decidessero Di lasciare Qualche ricordino Sul divano Almeno lo fanno Sulle coperte Che posso mettere A lavare Torniamo dentro Torniamo dentro Dai Bravo Bravo amore mio Nel frattempo Direi di attivare Anche il robottino Che pulisce per me Ok 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 I'm going to All right Ok Adesso vado A lavorare Al computer Ragazzi Noi ci vediamo Tra un po' Ok ragazzi Make up time Siamo qui nel mio studio E vado appunto A fare Il make up Anche se non esco Mi piace un sacco Come sapete Comunque Truccarmi Prendermi Quella di me Ma anche Truccarmi Non sempre Ma a volte Mi trucco Quando sono a casa Oggi è uno Di quei giorni Questo è Il All night Face primer Andiamo ad usare Il nuovo primer Di Urban Decay Poi Oggi voglio usare Un fondotinta Che non uso Da secoli Ed è lui Il Born This Way Questo è In colorazione Snow Che Era La mia colorazione Ma visto che la mia pelle Praticamente cambia colore Non si sa mai Quale sia la colorazione esatta Non Anche se un fondotinta Funzionava su di me In passato Come colore Come texture Eccetera Non è detto Che poi Continui a funzionare Quindi è sempre Un'incognita Allora Specchietto Mi sembra molto Appiccicoso Il primer Di Urban Decay Forse è addirittura Troppo chiaro Questo fondotinta Adesso vediamo Perché prima Utilizzavo La colorazione Porcelain Ma era Un Diciamo Un tono Più scura Della mia carnagione E Decisamente Non andava bene Poi hanno ampliato Il range Ed ho scelto No già da prima Già da prima E poi avevo trovato La colorazione snow Che mi sembrava La più simile Al mio incarnato Però Vedendomi così Mi sento Praticamente Un fantasma Veramente Perché sono Cioè Bianca pallida Quindi Adesso Stendiamo Questo fondotinta Poi magari Recuperiamo Il tutto Con La terra E vedo di darmi Un po' di colore Perché Teoricamente Se lo Mecciamo Al collo Cioè La colorazione Sarebbe anche giusta Però Ho il viso Abbronzato Per uno Strano motivo Perché Non mi sono abbronzata Sono rimasta Senza fiato Ragazzi Mi si è La videocamera Smesso di registrare Perché la memory card Era piena E l'altra memory card Era giù in soggiorno Quindi ho fatto Due piani giù Due piani su E sono senza fiato Comunque Forse Forse Un pochino Ossida Questo fondotinta Quindi Un mezzo Una mezza tonalità Più scura Forse Forse Sta diventando Di una mezza tonalità Più scuro Quindi Secondo me Come colore È giusto Ditemi voi Come vi sembra In videocamera Ma secondo me Secondo me Il colore snow È quello giusto In inverno In inverno Forse in estate Posso puntare Su una tonalità Leggermente Più Umana Leggermente Più scura Ma Decisamente Decisamente In inverno No E ragazzi Qui È bellissimo Si respira Già Scusate se parlo Sempre strano Continuo a scusarmi Per l'invisore Ormai lo sapete tutti È bellissimo Perché C'è proprio Questo mood Autunnale Iniziano a vedersi Le prime zucche Le prime decorazioni Poi tantissime case Qui Decorano L'entrata Comunque Quel piccolo giardinetto Che c'è davanti No Tipo il vialetto Con le zucche Tutte le cosine carine È bellissimo Infatti Non può essere Che il correttore È più scuro Del fondotinta Vabbè È È dello stesso colore Più o meno Ma dovrebbe essere Di solito mi piace utilizzarlo Usare uno un pochino più chiaro Solo che Sono diventata ancora più pallida Appunto E quindi È difficile trovare un correttore Abbastanza chiaro In modo che sia Ancora più chiaro Del fondotinta Comunque voglio trovare Anch'io modo Di decorare L'entrata della mia casa Perché adesso Non ho fatto nulla lì Ma io ho Onestamente paura Di fare giardinaggio Qui in Olanda Perché quando mi ci metto Incontro i ragni Più grossi Più brutti Quelli proprio che Cioè Io mollo degli urli Quando li vedo Non lo faccio apposta È proprio più forte di me Cioè mi spavento In un modo Che poi Veramente rivedendomi Perché a volte Mi capita E mi rivedo in videocamera Faccio veramente ridere Però io sono seriamente Spaventata E quindi Ho paura A fare giardinaggio E quindi Questo per dire Che il vialetto Di casa mia È abbastanza È un disastro Come cipria Utilizziamo questa La Too Faced Primed and Poreless Ed è per questo Che il mio Vialetto Davanti casa È un po' Un disastro Perché Non mi va Di andare A fare giardinaggio Perché ho letteralmente Il terrore Di incontrare Dei ragni molesti Che poi in realtà Poverini molesti Non sono perché di me Se ne fregano Anzi probabilmente io Cioè Loro hanno paura di noi Però Sono quelle paure Che non hanno Ma chi di voi Ha paura dei ragni Come me Perché ho visto Che non tutti Hanno questa fobia Io pensavo Tutti avessero paura Dei ragni Quando ero più piccolo Invece mi sono reso conto Che no C'è una fobia Che ho io Ma non hanno tutti Scrive Commentatemi Se anche voi Avete la fobia Dei ragni Perché per me È veramente un problema Ma appunto Sono quelle paure Che tu non puoi spiegarti Cioè Sono quelle paure Completamente irrazionali Come la mia paura Di volare Non ha Cioè Non è una cosa razionale Perché io Statisticamente Dovrei essere più spaventata Di quelli Cioè Di quando vado in macchina Ok Delle macchine Come mezzo di trasporto Invece Io sono spaventata Del mezzo di trasporto Più sicuro Che ci sia Quindi Mi rendo conto Che anche quella dei ragni È bene o male Una paura Ingiustificata No Però A me fanno tanta Tanta paura Ugualmente Anche se mi sono Tipo documentata Ed esistono anche Dei ragni velenosi Anche qui in Olanda Però Li abbiamo anche noi Però Qui secondo me I ragni sono più brutti E più paurosi Però Vi stavo raccontando Invece Tralasciando l'unica cosa Che veramente Mi sta dando dei grossi problemi Sono i ragni Avendo giardino Poi Veramente Ma Cioè Tanti mi dicevano Le zanzare Nicole Con il canale Ma sì Qualche zanzara c'è Ma io Ho una puntura di zanzare Ho avuto Quest'estate L'estate d'Italia Neanche qua Quindi Insomma Le zanzare Non sono un problema Il mio problema Sono i ragni Però al di là di questo Che in autunno È il problema più grosso Al di là di questo È bellissimo Perché stanno cadendo Le foglie dagli alberi Amsterdam è magica L'Olanda è magica Il quale è magica Ed è bellissimo Il fatto che appunto Tutte le case Stiano decorando I vialetti Perché appunto Dove abito io È un po' come Nei film americani Tutte le casette Eccetera E quindi è bellissimo Vedere che stanno decorando Con le zucche Tutte le cose Halloweenesche E cerco di prendere spunto Anch'io Ma appunto Devo trovare qualcuno Che venga a sistemarmi Il vialetto Davanti casa Perché io Non voglio Cimentarmi E vorrei fare qualcosa Di carino Anche appunto Così davanti La porta di entrata Non solo nel mio giardino Perché vabbè Il giardino ovviamente Non lo vede nessuno Quindi Cioè potrei anche decorarlo Ma non lo uso tantissimo Quando fa freddo Potete immaginare Però davanti casa Voglio E poi voglio assolutamente Prendere le zucche E intagliarle Come facevo Quando stavo qua in Olanda Di intagliarle E metterci proprio la lucetta Tipo la candelina All'interno Che figata Io adoro Sarà che Il mio compleanno È in autunno Quindi adoro L'autunno per questo E il 14 Quindi sono contenta Uno perché si avvicina Il mio compleanno Numero due Sono contenta Perché è molto molto bello Vedere le decorazioni E poi io adoro Halloween ragazzi Ed essere qui No vabbè Il mio sogno sarebbe Andare negli Stati Uniti Ad Halloween Sto usando sempre La stessa palette Di Benefit La Cheek Leaders Per la terra E il blush Come terra Uso la hula Lo sapete L'adoro E poi come blush Invece mischieremo Questi due Che sono il Dandelion Ed il Galifornia Il mio sogno Veramente Sarebbe andare Ad Halloween Negli Stati Uniti Passare Halloween Negli Stati Uniti E vedere tutti i bambini Che fanno giochetto Scherzetto E proprio vivere L'atmosfera Di Halloween Negli Stati Uniti Se qualcuno di voi C'è stato Ditemi com'è Ditemi in quelle città Siete stati E com'è Halloween Negli Stati Uniti Secondo me È il posto Più bello Dove viverlo Anche se Anche ad Amsterdam Vi devo dire Non è male C'è sempre qualcosa Qualche cosa carina Di organizzato Però quest'anno Purtroppo con il covid Come potete immaginare Tantissime cose Non si fanno O non si faranno Quindi Peccato però Appunto Qualche decorazione Devo assolutamente Qualcosina Già l'ho presa Per decorare casa Ma voglio prendere Altre cosine Anzi Fatemi sapere Se L'idea Di fare Un video Con le decorazioni Autunnali O di Halloween È un'idea Che vi può piacere Oppure no Perché A me Cioè Io sicuramente Decorerò casa Per Halloween Ma voglio sapere Se è una cosa Che vorreste vedere Su Youtube Oppure no Così Così Approfitto E vi faccio Un Lo so che è un po' Assurdo Perché l'ho appena fatto Ma potrei farvi Un mini House Tour Aggiornato Perché Ho cambiato Diverse cose Anzi Sto cambiando Cioè nel senso Mi sono arrivati Tantissimi altri quadri Che voglio appendere E E appunto Ho cambiato Qualche altra cosina Vabbè il tappeto L'avete visto Però Vorrei fare anche Un mini Magari Aggiornamento Sulle piccole modifiche Che ho fatto Dall'ultimo Dall'ultimo Home tour Ma In particolare Farvi vedere Come Decorerò La casa Per Halloween Quindi Fatemi sapere Se vi piace Come idea Oppure no Sto facendo un contouring Al naso Che è pessimo Perché non sto Davanti Alla finestra Ma sono tipo Di lato Quindi Veramente C'è una macchia Arancione Che non si può vedere Ma adesso Sistemiamo tutto La hula Mi piace un sacco Anche perché Si sfuma Molto Molto Facilmente E Ok Che continuano Sempre A dirmi Che mi sono Rifatta il naso Invece L'unica cosa Che faccio È il contouring E non è una cosa Che mi fa troppo ridere Ma veramente Il mio naso Cambia molto Con il contouring Perché Sembra molto Cioè Largo E quindi Quando vado a fare Il contouring Sembra così Stretto E in tantissimi Mi dicono Che mi sono Rifatta il naso Però non è così E Per quanto riguarda Il botox Voglio farvi anche Un piccolo aggiornamento Facciamo Make up E chiacchiere Tra di noi Mi piace questa cosa E Aggiornamento botox Allora ragazzi Sono passate E superate Le due settimane Ho questa zona qua Bloccata Ma solo Cioè bloccata Semi bloccata Appunto Altrimenti non riuscirei A fare questo Però Qui Sento Che ho I muscoli Particolarmente Bloccati E infatti Non si Riescono a creare Le rughe Che invece Mi si creano Di solito Quando faccio Questa espressione Quindi Quindi Questo Secondo me È positivo Appunto È una cosa Che dura veramente poco Quindi poi Non so se Mi andrà di rifare tutto Cioè Se tra tre Aia Se tra tre mesi Mi stavo chiudendo Il dito nel cassetto Se tra tre mesi Mi andrà di rifarlo Oppure no Vedremo Però Questo È un po' L'aggiornamento Non ho avuto Nessun tipo Di Effetto Collaterale Niente di niente Ho seguito Le istruzioni Che mi ha dato La mia amica E E basta Quindi L'unica Appunto Sensazione strana È che qui Non riesco Cioè Sento proprio un po' Il muscolo Non bloccato Ma Un po' Come se fosse Un po' Più addormentato Quindi Però la sensazione strana La sento ancora Cioè Mi sembra ancora Strana Come sensazione Non so se poi Con gli anni Se uno lo fa Sempre Si abitua A questa sensazione E Gli sembrerebbe strano Cioè Non averla più Questa sensazione È sempre un po' Difficile Spiegare Questi miei concetti Però È una sensazione Strana Ma ci fa il caso Solo quando Ti ci concentri Tipo io adesso Che vi sto raccontando Ci ho fatto caso Ecco Altrimenti Non ci faccio caso E Non sento Alcun tipo di differenza Qui Ma vedo che Se sorrido Non si formano più Le lughette È incredibile Cioè Non si formano Però non sento Nessuna differenza Qua E non sento Nessuna differenza Qua Ma probabilmente La differenza c'è Ma io non me ne accorgo E quindi appunto L'unica cosa Che è un po' strana È questa sensazione Qui tra le sopracciglia Secondo me Io sento di più Qui Perché è dove Usavo E uso di solito Molto i muscoli Credo Poi ovviamente È solo il mio pensiero In base Alla mia attuale esperienza Però credo che Di norma Io usassi Molto di più Questi muscoli qua Rispetto a questi E a questi Perché non Non mi sono Non mi si sono mai Formate le rughette Che a tanti Si formano Qui lungo la fronte Quindi io Quei muscoli Non li uso Di mio Però qui Sì E quindi Secondo me È per questo Che sento Se c'è qualche medico Può confermarmi Oppure smentirmi Ma Sì Penso che sia per questo Allora Un bel po' di blush Perché così Sembriamo Un pochino più colorate E non è male Blush Anche sul naso Che è un po' Che mi piace Stenderlo Sia Sopra Cioè Sia sulle guance Che sul naso Per fare un po' L'effetto di Sankiss No? Come se Avessi preso un po' Di sole Perché naturalmente Quando ci si abbronza Appunto Il sole Lo si prende Qui in queste zone Adesso Piegaciglia E mascara Questo è il volume up Di Banana Beauty Quanto è pazzesco L'effetto Di questo Mascara Guardate L'occhio Con Essenza Cioè Adoro Adoro E non è sponsorizzato Questo video ci tengo A sottolineare Ma Banana Beauty È un brand Con cui lavoro E ci lavoro Proprio perché appunto Mi piacciono Un sacco I loro prodotti E in particolare Mi chiedete sempre Quali rossetti indosso E ragazzi I rossetti Di Banana Beauty Quelli liquidi Opachi Li adoro E ultimamente Ne sto indossando Parecchi Tipo E quando indossavo Il rossetto XOXO Ho ricevuto Un sacco Di domande Sul rossetto Ed era appunto Di Banana Beauty Fate anche le sopracciglia Ho utilizzato La matita Brow Power Di It Cosmetics E per le labbra Vado ad usare Appunto Il rossetto liquido Opaco Che sono la mia Fissazione del momento Di Banana Beauty E questo è Tantastic Volevo usare XOXO Ma non so dove sia Probabilmente in una borsetta Quindi non lo voglio Di andarlo a prendere Quindi userevo questo Che mi piace anche Tantissimo Un bellissimo Nude Chiaro Ma ragazzi Lo so Voi mi dite Che indosso Troppo spesso I nude Chiari Ma Io sono innamorata Io adoro Questi colori Adoro questi colori Su di me Ma Voglio Decisamente Usare anche Rossetti Un po' più scuri Questa stagione Quindi Se mi vedrete Indossare Appunto Rossetti Un pochino più Ottunnali Sappiate che voglio Uscire Dalle mie Comfort zone Per utilizzare Rossetti Che sono Bellissimi E quindi Vorrei veramente Riuscire a far Funzionare Anche Tonnalità Un pochino più Scure Su di me Vorrei anche Fare un video Get ready with me Perché da un sacco Che non ne faccio Ma uno in stile Cioè Come passo da zero A cento In una Cioè Un makeover Completo Ok Tipo da Impigiamata Con le occhiaie E i capelli Un disastro A un trucco E capelli Fatti Outfit Fatto Quindi Sappiatemi dire Se Mi può piacere Come idea Oppure no E Sembra magari Scontato Il fatto di darmi Feedback Sui video Che volete vedere Ma Io non ve lo chiedo Ragazzi Tanto per dire Io ho bisogno Sempre del vostro Feedback Sempre Delle vostre Del vostro parere Perché per me È importante Lo dico spesso Ma è vero ragazzi Youtube è una community E io Sono contenta Di avere questo canale Che ci sia la possibilità Per noi di Scambiarci idee Di darmi le vostre opinioni Di dirmi cosa volete vedere Per questo spesso Ve lo chiedo Perché per me È importante E penso che sia E penso che sia anche Molto importante Anche farvi Cioè farvelo capire Non solo Allora Penso che sia molto importante Il fatto che sia così Ma è anche molto importante Per me Farvelo sapere Comunicarvelo E quindi Chiedendovi Anche i vostri pareri Eccetera Uno Ho un feedback Molto importante Che mi fa capire Cosa vi piace E cosa no Perché i miei contenuti Li creo per voi Naturalmente Numero due Appunto Così facendo Riesco anche a farvi capire Quanto Siate importanti Quanto sia importante Il vostro contributo Un like Un messaggino Un commento Mi fa sempre sapere Che quello che faccio È apprezzato Che quello che Vi Cioè che il mio impegno Comunque Viene Viene visto Non Non voglio che venga apprezzato Eccetera Voglio soltanto Che Appunto Che Che sappiate Che siete importanti Ecco E che non faccio contenuti Per me stessa Ma li faccio per voi Quindi È importante Per me Che sappiate Questo E direi che Per quanto riguarda Il trucco Abbiamo finito Spruzziamo Soltanto ancora Il nostro fissante E vado ad usare L'All Nighter Ultra Matte Io adoro L'All Nighter Ma ho sempre utilizzato Quello classico Il Long Lasting Che Ha una boccetta Un pochino più scura Rispetto a quello nuovo Ma Devo dire Che non noto Differenze Tra La versione normale E la versione Ultra Matte Perché per me Già la normale Era Ultra Matte Quindi Cioè Onestamente Io mi trovo Benissimo con entrambe Ma secondo me Già quella normale Era Ultra Matte Forse però Per le pelli secche Forse magari Quella è un po' Più Formulata Per le pelli Anche Normali O secche Mentre questa Appunto La Ultra Matte È formulata Per pelli Un pochino più Oili Un pochino più Naturalmente Grasse O comunque Miste Quindi sicuramente Quella più giusta Per me Però io mi sono Sempre trovata Molto molto bene Anche con la versione Originale E ragazzi Questo è il trucco Completo Di oggi Molto easy Molto Eccolo Molto easy Molto fresh Per stare a casa Ragazzi Guardate Che cosa Mi è arrivato Bottega Veneta Ha fatto un super Super acquisto Tanti mi odiano Quando faccio vedere Questi acquisti A tanti piacciono Quindi io Continuo a farli Vedere Per quelli A cui Questa tipologia Di video O questi frame In cui vi faccio vedere I miei acquisti Piacciono Ok Quindi Adesso vi faccio vedere Spacchettiamo Spacchettiamo Già sapete Se mi seguite Su Instagram Già sapete Già sapete Cosa ho preso Tataran Tataran Ho già spacchettato In realtà Perché ho voluto provare Non appena mi è arrivato Quindi vedrete Una dust bag Vuota Tadam Mamma mia Enorme Proprio perché Ho preso Tataran L'altra C'è ancora Perché Ho provato Naturalmente È solo uno stivale Tadam E sono Loro Gli stivali Di bottega Veneta Che Adoro Adoro Ecco l'altro Tadam Eccoli qua Sono super morbidi Super comodi E fatti per le intemperie Quindi perfetto Quando pioverà Diluvio Universale Neve Cioè Veramente Sono Fantastici E Sono Molto 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 Contenta Dell'acquisto Che tra l'altro Ragazzi Il mio primo Acquisto Bottega Veneta Ever Cioè Non ho mai Acquistato niente Da Bottega Veneta È il primo Primo Shopping Che faccio Appunto L'ho fatto dal sito Quindi Sono molto contenta Ho preso un 40 E devo dire Che è true to size Quindi io ho il 40 E di questi Ho preso il 40 E mi stanno giusti Forse Un pochino Più Nel senso No Mi stanno giusti Però a volte Il 40 Mi sta grande Quindi direi che Vestono Diciamo un pochino Più piccolini E in tantissimi Quando vi ho chiesto Su Instagram Se vi piacevano In tantissimi Avete detto Nicole Sono più belli Quelli di Prada Prendi quelli di Prada Ho visto quelli di Prada Però personalmente Non mi piacciono Quindi Ho subito 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 Lasciato perdere E ho puntato Su questi E ragazzi Ovviamente Sono nuovi L'ho indossato Un secondo Solo per provare Il numero Perché ero Stra In ansia Ma sono perfetti E Però Sono Molto Molto comodi E sicuramente Per me Veramente Con l'arrivo Della Dell'autunno Dell'inverno Quindi quando inizia a piovere Di più Eccetera eccetera Questi sono Fantastici E volevo prenderne Un paio Super super stylish Sì Devo ancora sistemare Il letto lì Perché ieri Non ho filmato Non ci sono manco entrata Più in questa stanza Devo ancora rifare il letto Ok ragazzi Col di lavoro fatta È durata un po' più del previsto E poi ne ho avuto un'altra Che era inaspettata Quindi ne ho fatte due Ed è passato un po' In realtà sto pensando Che per pranzo Non ho mangiato In realtà niente di sostanzioso Se non ho sgranocchiato Qualche cosina Ma niente di che Quindi Pensavo di fare Allora più tardi Vorrei ordinare il sushi Ma pensavo intanto Di fare un avocado toast Con il salmone Che è una delle mie fisse Ultimamente Cioè sto mangiando Chili di avocado toast Con il salmone E poi appunto Prenderemo il sushi Che è un po' Che non ordina Sono secoli Che non ordino il sushi a casa L'ho mangiato Un paio di giorni fa Con Andrea ad Amsterdam Siamo andati proprio al ristorante Però oggi voglio ordinarlo a casa Guardarmi un film E mangiarmi il sushi Quindi però Intanto Prepariamo questo avocado toast Perché ho parecchia fame Cosa ci serve? Allora Avocado Giustamente Poi salmone Come potete vedere Il mio frigo È praticamente semivuoto Ma sto aspettando La spesa domani Salmone Rigorosamente Norvegese No Sì Norvegese Perché quello scozzese Non mi piace Poi il pane Lo tengo nel freezer Perché altrimenti Lo butto Quindi non ha senso Quindi prendiamo Solo due fette Ok Ho messo le fette di pane Nel microonde Solo per Scongelarle Lascio giusto 15-20 secondi Ok Ho tagliato l'avocado Vado a metà Nel frattempo Adesso Ne useremo Soltanto metà Che è per Proprio per due Fette di pane E vado a spiaccicare Adesso Il tutto Con una forchetta L'avocado È bello maturo E bello morbido Quindi è perfetto Ok Adesso Adesso che è bello spiaccicato Vado ad aggiungere Un po' Di sale Pepe E olio Extravergineo Di oliva Non seguo stavolta Nessuna ricetta In particolare Faccio un po' a caso Di solito L'avocado Toss lo faccio Cioè con le Proporzioni a occhio Così diciamo Ok Quindi un po' A occhio Un filo D'olio Poi sale E un po' Di pepe Comunque aggiungeremo Un po' di pepe Anche dopo Alla fine Mescoliamo di nuovo Il tutto Per bene E con una mano Non è facile Ok Adesso faccio Tostare Il pane Così In padella E avrei potuto Metterlo anche Direttamente Dal freezer In padella Ma preferisco Fare così E prima Ammorbidirlo Al microonde E poi lo metto In padella Quindi si fa Veramente in tre secondi Poi teoricamente Dovrebbe andarci Il lime Ma non ce l'ho Quindi usiamo Un limone E spruzziamo Un po' di succo Di limone Anche mi stavo Quasi dimenticando A me piace Tantissimo Il limone Quindi ne spruzzo Parecchio Ma poi va a gusti Ok Il pane è pronto È bello Tostato E croccante E adesso Andiamo a spalmare Sul pane Il nostro avocado Fatto Adesso Andiamo Ad aggiungere Le fettine Di salmone Affumicato Adesso Altra Spruzzatina Di sale E pepe E voilà Ragazzi Avocado toast Pronto Yami E ho finito Di mangiare Il toast Ed è arrivato Giusto Giusto Il sushi Ne vuoi un po' Gatto Demer Ne vuoi un po' Tu Piccolo Che tiro tutto Bianco Tutto bianco Quanto sei speciale Gatto Demer Allora Vediamo Cosa ho preso E poi Ovviamente Come al solito Gli edamame Uffa Non c'è il sale Nel gli edamame Io adoro Quando ci mettono Il sale grosso Allora Ho preso Tre nigiri Al salmone Poi ho preso Questo roll Con il gambero E l'avocado Poi ho preso Questi maki Che sono Con formaggio Croccante Così per provare Non li ho mai assaggiati È la prima volta E poi ho preso Altri tre Maki Anzi questi sono Mini maki Mini maki Al salmone Quindi Buon appetito Non so se dopo il tosto Riuscirò a finire tutto Ma ci proviamo E questa Naturalmente È la salsa di soia Notare l'interesse Di Gatto Demer E poi Qui c'è Lo zenzero E di wasabi Non so come mai Lo zenzero A volte è rosa A volte è bianco Bah Comunque Buon appetito ragazzi Non ci sono Le bacchette Sì ci sono E per pigrizia Useremo queste Buon appetito Ok mia family Ormai è tardi Io mi sono messa A lavorare ancora un po' Al computer Dopo cena Quindi adesso Mi strucco E poi Nannetta Io vi mando Un bacio grandissimo Spero che questo video Sia abbastanza lungo E scusatemi ancora Se nei giorni scorsi Non ho caricato un video Ma appunto Adesso Questi problemi Alla connessione Sono finalmente risolti Baccio grandissimo Venite che vi abbraccio Forte 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 Fortissimo Un po' strano In questa inquadratura E noi ci vediamo Domani Alle 17.30 Puntuali Ciao Ciao